guardate che bel sorriso stampato in faccia ma mi sembra il minimo sono appena tornato da luci di campi bisenzio dove ho visto fast x il decimo capitolo della saga di fast and furious che è approdato nelle sale italiane dal 18 maggio del 2023 diretto da louise le terriere che magari ricorderete per l'incredibile hulk del marvel cinematic universe un film da tanti criticato ma che io ho nel cuore e che apprezzo al netto dei difetti che può avere va da sé e se mi conoscete lo sapreste che non vedessi l'ora di recarmi in sala per godermi questa nuova perla dell'esagerazione la bellezza del cinema è che riesce a farci credere a tutto anche alla cosa più impossibile quando c'è cuore quando c'è voglia di stupire quando c'è voglia di accendere i motori e insomma di trasportarci in un mondo paradossale folle dove non esiste una legge fisica dove non esiste forza di gravità ormai io voglio bene a dominic toretto e a tutta la famiglia ed infatti non mi interessa più se qua e là ci sono delle cose che non tornano se fanno degli aggiustamenti in corsa io ormai mi metto a sedere in sala aspettandomi l'esagerazione pura attendendomi quel bel popcorn movie che riesca a tenermi incollato per quelle due ore due ore e venti due ore e mezzo tre insomma alla poltrona pronto a ridere di gusto pronto anche ad appassionarmi a rimanere intrattenuto e coinvolto dalle storie della famiglia più famosa cinematograficamente parlando forse solo dopo quella del padrino quindi che posso dire io questo decimo capitolo non solo l'ho amato sono entusiasta dopo la visione ma lo definisco uno dei migliori capitoli del franchise già il 9 mi aveva fatto godere uscì nell'agosto del 2021 dopo tantissimi rinvi tant'è che lo vidi in un cinema all'elba meglio di niente certo la qualità non è la stessa di quella di un cinema come luci di campi o di un arcadia di melso però al contempo piuttosto che non vederlo il nono me lo vidi lì e l'ho recuperato poi in blu ray prima di andare a vedere il 10 per rinfrescarmi un po le idee già quello riuscì a colpirmi con tutti i flashback del passato nonostante le assurdità penso che il ritorno di han sia fra i più incomprensibili di sempre ma ormai da questa saga ho capito ho capito una cosa che le dinamiche siano quelle cioè io mi devo aspettare quegli ingredienti cattivi che diventano buoni alleanze assurde morti che parlano neanche si fosse in star wars solo che in fast and furious lo accetto perché è un franchise dove fortunatamente non ci si prende sul serio questo non vuol dire che manchino momenti serie assolutamente no cioè ci sono e a me piace anche quando si va incontro a questa introspezione fra virgolette della famiglia questi momenti anche più dove il sentimento prende il sopravvento fra dom e suo figlio e letti e tutta la famiglia riunita ma al contempo lo sappiamo nel 9 siamo andati nello spazio con la macchina per distruggere un satellite i protagonisti sono i primi a dire ma noi siamo miracolati siamo invincibili perché se si trovassero in un film sarebbero già morti ma in realtà è un film fast and furious c'era anche cypher che nel nono citando luke skywalker diceva o ioda o insomma i personaggi del franchise diceva se ci trovassimo in un film questo sarebbe il momento in cui bla 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 quindi c'era la voglia di citare i film ma fast and furious è l'emblema del film paradossale assurdo eccentrico per eccellenza e anche con questo decimo capitolo che dura due ore e venti circa io ho goduto come un riccio quindi allontanatevi dal canale voi che questo non è cinema il cinema è anche questo se non la pensate come me mettetemi dislike godo nel vedere il vostro dislike io proprio amo amo passare magari dal film d'autore a fast infurio so oggi ho visto fast x giovedì non vedo l'ora di vedere il rapito del maestro marco bellocchio però lontani da qua tutti coloro e questo non è cinema che guarda questo tipo di film non capisce niente di cinema e questa è la rovina del cinema la rovina ma ce ne fossero miliardi di film di questo tipo non è colpa di fast x se poi film d'autore i film più di nicchia floppano è il pubblico che dovrebbe riuscire a variare come faccio io e che mi so godere l'intrattenimento anche più spettacolare poi il film più autoriale non è colpa di fast x anzi meno male esiste un fast x meno male esiste un shark 2 che uscirà ad agosto così almeno gli esercenti ringraziano le poltrone delle sale si riempiono e poi fatevi un esame di coscienza se invece bellocchio pupiavati e questi grandi maestri li fate flopare non è colpa del cinema io nel mio piccolo ho sempre dimostrato quanto abbia rispetto di questo tipo di pellicole che tentano e con me ci riescono di regalare solo l'intrattenimento non saranno film che vinceranno statuetti che cambieranno la storia del cinema ma vincono la stima la voglia di divertirsi del pubblico e anche il rispetto di un pubblico che magari dal 2001 ad oggi è cresciuto con questa saga è cresciuto con quei personaggi ha voglia di divertirsi ha voglia di sospendere l'incredulità poi ci mancherebbe ci sono le persone a cui l'esagerazione non piace quindi è ovvio è legittimo che venga criticato fast and furious però a me non sembra uno di quei filmacci dove niente torna dove gli effetti visivi sono orribili ci sono delle assurdità in sceneggiatura nel franchise è ovvio è palese però anche qua che ci si ricollega al quinto bellissimo capitolo del franchise si riesce a creare un collegamento intelligente fluido che non ti fa dire ma come come ad esempio quando ritornavano i personaggi del passato fra cui anni che tu dici come cosa ecco in questo caso abbiamo dante reyes che era i che è il figlio di reyes del quinto capitolo vi ricorderete a rio de gianero il diavolo a quattro che avevano fatto avevano rubato tutto il suo patrimonio con queste con queste casse forti che distruggevano rio reyes è morto c'è il figlio interpretato da un jason momoa pazzesco completamente sopra le righe e volutamente è un moderno joker della saga di fast and furious che si diverte a far soffrire toretto e la famiglia non lo vuole uccidere subito lo vuol prima fare soffrire jason momoa incredibile quanto mi sono divertito per un film girato fra roma anche se in realtà molte scene sono state girate a torino nel mio video diario sui passi di profondo rosso che ho caricato qualche settimana fa sono stato anche sul set di scusate sia di profondo rosso di dario argento sia di fast x perché la scena in cui la bomba la palla no distrugge sculture monumenti insomma quella è una via di torino io ci sono stato quindi potreste vedere la scena poi nel film spacciano tutto per roma addirittura ad un certo punto si va a napoli poi resta da capire se abbiano girato veramente quella sequenza lì oppure no ma poi portogallo antartide londra rio de janeiro e chi più ne ha più ne metta hollywood quindi ovviamente quindi los angeles è un film che riesce a divertire di gusto lui le terriere non sarà justin lynn non sarà james wan che con il settimo capitolo ci ha regalato secondo me il tassello più bello di tutto fast and furious ma con mestiere riesce a regalarci una pellicola che fa dell'azione il suo punto di forza ma anche in certi momenti del divertimento proprio possiamo dire demenziale sì specialmente quando ci troviamo di fronte alle solite gag fra tege e roman pierce loro sono i comic relief della situazione ma poi torna anna ci sono i momenti più seriosi quelli più stupidi come fast and furious ci ha insegnato negli ultimi anni la sala era piena a luci di campi bisenzio ricordiamo che il film è stato realizzato con un budget di 340 milioni di dollari quindi per non floppare dovrebbe guadagnare più di un miliardo in america le stime previste non sono così alte dagli esperti però in italia sta andando invece benissimo milioni e milioni tutti i giorni quindi io mi auguro che possa andare bene anche perché è già stato annunciato un nuovo film oltre all'undicesimo che sarebbe dovuto essere quello conclusivo quindi il decimo dovrebbe essere l'inizio di una trilogia che porterà poi al gran finale e si vede come abbiano voluto seguire il modello marvel perché effettivamente questo è un film ragazzi l'universal sta copiando i marvel studios nelle dinamiche produttive nelle dinamiche editoriali perché questo è l'infinity war di fast and furious aspettatevi di tutto fra ritorni forse persone che moriranno ma saranno morte non saranno morti io non voglio rivelarvi niente di più però se cito infinity war non è un esempio casuale quindi 141 minuti a me sono volati c'è una scena a metà dei titoli di coda importante quindi vi esorto a restare in sala scena che già avevano spoilerato allora tutte le sorprese di questo film io le sapevo le sapevo perché sul web ne avevano parlato ma non utenti cretini che avevano voglia di rovinare la visione al prossimo ma proprio testate giornalistiche importanti che hanno parlato come se nulla fosse di certi personaggi ritornanti e chi più ne ha più ne metta però magari non avete letto queste cose fortunatamente per voi quindi nella parte generale non dico niente all'inizio dietro la macchina da presa proprio come nel nono capitolo e in tanti altri capitoli della saga sarebbe dovuto tornare justin lean poi ci sono stati dei diverbi con vin diesel tant'è che dopo una settimana dall'inizio della lavorazione del film è rimasto solo in veste di produttore e quindi sono rimasti senza regista alla fine è stato scelto louis letterier che ripeto fa un buonissimo lavoro questo è quel tipo di cinema più scansonato più più assurdo è ovvio che chi va in sala aspettandosi il realismo ragazzi cercate di capire già dal trailer vediamo che con una macchina veramente si si riesca a trasportare due elicotteri con una macchina con delle con dei cavi d'acciaio legato a degli legati a degli elicotteri la macchina riesce a veramente a spostare due elicotteri si parla di macchine che vanno su per delle dighe verticali quindi dopo il 9 dove siamo andati nello spazio dovreste capire capire che se con una macchina stavolta si trainano degli elicotteri non dovreste aspettarvi il realismo ma giustamente è questo il punto di forza di fast anzi chissà cosa si inventeranno nell'undicesimo nel dodicesimo io non vedo l'ora anche perché ci sono dei personaggi a cui voglio bene dante reyes è uno dei migliori di sempre della saga di fast anzi devo dire il più iconico è bello per noi italiani vedere che il film sia stato girato in italia le sequenze a roma sono al cardiopalma ogni tanto ci sono dei piccoli difettucci di cgi però gli effetti visivi sono validi solo qua e là ci sono delle delle scene in cui si palesa la cgi ma già nel 9 accadeva di più qua meno quindi io in generale vi posso solo dire che sono totalmente a bordo io questa saga non l'ho seguita dall'inizio anzi iniziai a vedere fast and furious dopo la morte del caro paul walker e il primo che vide al cinema fu il 7 quindi pensate un po anche qua si omaggia paul walker giustamente non può non è non può non esserci l'omaggio a brian e poi troverete sempre vin diesel vin diesel che viene sempre criticato invece secondo me con questa sua recitazione per sottrazione riesce a renderlo credibilissimo il personaggio di dominic toretto poi michelle rodriguez la nostra letty tyress gibson il nostro roman pierce chris bridge stage parker e poi jason momo l'ho già detto john cena jason statem scott eastwood il figlio di clint eastwood brie larson una new entry a me lei non fa nemmeno impazzire nel ruolo di captain marvel però invece qua l'ho subito apprezzata mi è subito rimasta in simpatia addirittura c'è rita moreno rita moreno in una piccola parte che non vi svelo charlie sterone elen mirren e poi c'è anche daniela melchior che è un nuovo personaggio importante ecco questo è un film che proprio va a omaggiare tutta la saga perché ci sono tanti collegamenti con il passato comprensibili anche da chi non ha visto i film precedenti perché ci sono sempre delle spiegazioni che non risultano fastidiosi poi certo ci sono i difetti soliti con cose aggiunte in corsa che potrebbero stonare sì magari qualcuno potrebbe dire ma non ha senso anche la dinamica del cattivo che diventa sempre buono perché pure nel decimo ci sono delle alleanze ad un certo punto che te pensi ma come ma questi si sono scontrati nei precedenti anzi alcuni film precedenti si basavano proprio esistevano proprio per il conflitto fra queste due persone adesso sono in alleanza però ormai è la regola dei fast è come quando uscivano i cine panettoni i cine panettoni avevano delle regole ben precise colonna sonora in colonna sonora del momento le bellone del momento location esotica poi magari le storie venivano raccontate amalgamate in modo diverso però le dinamiche erano quelle e io infatti adoravo i cine panettoni di un tempo fast x mi ricorda quel cinema commerciale che a me proprio colpisce e che amo dire di apprezzare ogni qual volta vedo che qualcuno resta deluso perché io dico di apprezzarlo perché se c'è una cosa che io non tollero col massimo rispetto per chi questa saga non l'apprezza ci mancherebbe ragazzi se una persona vede il film o se una persona non vuole vedere il film perché non apprezza questo tipo di pellicole ci mancherebbe io detesto che ma questo non è cinema e ma se ti piace questo non capisce niente di cinema che bello se questa è la rovina del cinema per favore rovinate sempre il cinema rovinatelo ancora di più però intanto io che vado a vedere un film che rovina il cinema poi mi godo un fellini mi godo un kubrick mi godo uno scorsese però si sa è bello criticare e quindi questo non è cinema hai voglia se è cinema il cinema è anche intrattenimento anzi ce ne fossero di più di film come fast x quindi ragazzi questo è il mio parere il mio parere in generale adesso farò una parte spoiler per rivelarvi più nel dettaglio quel che penso di fast x accendete i motori andate in sala vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video ed ecco eccoci agli spoiler fatemi dire che già il prologo del film sia veramente ben fatto perché ci si ricollega al quinto film con immagini di repertorio e quindi si riassume quel che è accaduto a reyes ma nel contempo si aggiungono delle sequenze con dante reyes che veramente sembrano riprese dal capitolo quinto quando in realtà sono state messe ex novo questa cosa beh è interessante perché lo sappiamo fast and furious abbia fatto anche i suoi pastrocchi ripeto nel nono per quanto mi sia piaciuto quando spiegavano il ritorno di han io penso che sia così macchinoso il racconto del signor nessuno che qua è sparito quindi bisognerà capire anche che fine abbia fatto qua invece il tutto è comprensibile ed è una cosa molto importante trama semplice ma efficace dante reyes giura vendetta e quindi è un pazzo è una persona squilibrata è una persona che uccide le persone quando scoccia il viso di queste persone quel momento lì è quasi inquietante ma in dei momenti ricorda joker a dominic toretto devi scegliere chi salvare durante la corsa automobilistica è proprio un film al cardiopalma due ore e venti di azione ma anche condensate da alcuni momenti in cui c'è l'importanza della famiglia quindi il ritrovo della famiglia famiglia che in questo film anche risulta separata perché dopo il disastro a roma al vaticano scene mozzafiato sul tebere scene in qualsiasi location importante di roma il colosseo piazza di spagna insomma qualsiasi location conosciuta storica di roma la vedrete anche se in alcuni momenti ci troviamo a torino come ho già detto quando c'è questa palla questa bomba che rovina qualsiasi cosa e avrei pagato per essere lì sul set a vedere queste macchine esplodere che più ne ha più ne metta la bellezza di dominic toretto che per fermare la bomba salta dal ponte con la macchina tutta velocità per picchiare volontariamente contro una gru che praticamente volteggiando va a va a sbattere contro la palla quindi fermando la sua corsa verso nuovi bersagli e quindi verso l'esplosione quel momento lì è ragazzi io proprio rido di gusto guardavo mio padre accanto a me ridevamo perché voglio ridere voglio divertirmi con l'assurdità se non me la regala al cinema l'assurdità cioè la trama poi per di più è coinvolgente se vi piace questo tipo di film con le musiche di brian taylor ma poi quando arriviamo a roma c'è anna bendo sopra il booster a una fattura non parlo di booster è sempre bello sentire anche la musica italiana in fast and furious come accadeva nel quarto capitolo ad un certo punto ci spostiamo a napoli e c'è una canzone dei maneschi in sottofondo pensato un po da roma lui è andato a napoli dicevo la famiglia la famiglia si dividerà anche perché il signor nessuno è sparito all'agenzia conosceremo brillarsson che è la figlia del signor nessuno ma conosceremo anche questo nuovo agente proprio forzuto un hulk di new generation io pensavo inizialmente potesse essere un parente di luke ops ho detto ma vuoi vedere che ci potrebbero dire che sia fratello cugino nipote del nostro the rock anche perché lo sappiamo in questo film tutti sono parenti di alla fine no lui era un alleato di dante reyes è stato un colpo di scena inaspettato veramente io non ci credevo non ci avevo pensato ma scopriamo che ci sia l'altra ragazza cioè isabel che era la sorella della donna con cui dominic toretto ha fatto un figlio della donna che ha ucciso la poliziotta che poi è stata uccisa da cypher quindi c'è quella parentela lì al contempo c'è la figlia del nostro signor nessuno di quindi di kart russell e io non credevo che questo questo nuovo agente che anche intelligentemente dice però ragazzi cioè l'agenzia sta facendo lavorare dei delinquenti quindi si tira in ballo anche un'osservazione mica stupida cioè l'agenzia per quanto questi siano bravissimi nel risolvere qualsiasi caso nell'affrontare qualsiasi missione ragazzi questi sono stati dei ladri per anni 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 voi li avete fatti lavorare perché loro poi si sono ripuliti però effettivamente c'è giustamente ad una persona può venire in mente noi non sappiamo ancora che sia alleata questa persona di dante reyes a una persona può venire in mente ma non è che siano stati loro per un ennesimo furto insomma che siano irresponsabili quindi anche un'osservazione da tenere in considerazione poi invece tutto ha un perché quindi la famiglia è braccata non solo da dante reyes ma anche da 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 questi servizi segreti dai carabinieri di roma cioè da da tutti da tutti quindi si divide abbiamo roma antege an che si ritrovano a londra senza soldi perché dante ha hackerato le loro carte di credito non hanno più un soldo e quindi si rivolgono al nostro jason statham cioè decart show decart show che è ancora lì a picchiare quello che ha rinchiuso nel sacco da box era la post credit del nono episodio quindi ci si rifà quella scena lì ci si ricollega con il faccia a faccia fra han e decart show decart show che come capisce si vede poco ma è sempre un piacere di vedere jason statham che anche la madre lennir che anch'essa vediamo poco sia in pericolo la va a salvare si presentano tutti i personaggi perché io mi immagino che l'undicesimo capitolo sarà veramente la prima parte dell'endgame della situazione con questo finale in cui beh cosa vogliamo jacob john cena che va a prendere brian che era rimasto a casa con mia e lo salva portandolo in questo bunker segreto ma con l'occhio di dio quindi tornano tutti anche gli aggeggi tecnologici dei film precedenti con l'occhio di dio viene individuata la posizione jacob se ne va tra l'altro nella scena sull'aereo quando la hostess aiuta jacob dandogli i tre insomma le tre boccette di alcol lei è la figlia di paul walker la hostess quindi che bello poter vedere la figlia di paul walker in questo film ma indipendentemente da questo ricordando sempre paul walker ed è molto bello anche quando c'è la sequenza in cui all'inizio vin diesel abbraccia sua nonna cioè rita moreno la madre di suo padre quel momento lì in cui parte see you again in sottofondo e vediamo le foto sia del padre di toretto sia di brian vabbè momento molto capace anche di colpire cioè io con questi film per quanto semplici per quanto non ci si debba aspettare l'introspezione di un film che ne so di orson wells al contempo riesco ad emozionarmi perché ci tengo a questi personaggi cioè più volte provo i brividi anche proprio nei momenti di puro intrattenimento perché sono momenti di intrattenimento beh infatti il finale stavo dicendo prima con jacob che salva brian si lascia andare giù dall'aereo con questo kayak speciale che vola poi vanno all'accampamento però dante sulle loro tracce quindi scappano il momento in cui si sacrifica jacob che stringe la croce io spero che lui resti morto perché è ovvio che poi tege roman gli altri non siano morti mi sembrerebbe assurdo è un po il pretesto di infinity war sembrano morti ma poi c'è un modo per far ritornare però loro ci sta perché non si vede che vadano a schiantarsi ma si vede che comunque dentro il velivolo velivolo abbiano delle macchine insomma delle delle sicuramente possibilità di salvarsi mentre jacob va proprio incontro all'esplosione anche dopo tutto quel bel momento con il nipote io desidererei vederlo morto questa volta accetto il fatto che prima fosse cattivo e poi diventa buono ripeto qua o salite a bordo oppure no sono proprio dinamiche secondo me dopo un po non è nemmeno più un difetto perché è proprio quello che vogliono poi può non piacere ma è proprio quello che vogliono a volte puoi restare interdetto sicuramente a me dà molto più fastidio quando tornano i morti io sapevo già che avremmo rivisto gal gadot perché l'hanno detto tranquillamente le testate giornalistiche così come sapevo di the rock però the rock non è morto e quindi ci stanzi mi fa piacere che dopo i litigi per il gran finale ma anche dopo i flop di black adam abbia trovato the rock un accordo con vin diesel sperando che vadano d'amore e d'accordo anche nella vita vera però gal gadot già anne dico bah gal gadot l'abbiamo non l'abbiamo vista stritolarsi in terra ma comunque cadeva da quell'aereo nel 6 quindi però anche lì si scopre che fosse tutto un piano forse di cypher che fosse d'accordo con cypher perché arriva in antartide a salvarla e va a salvare letti a salvare cypher quindi si crea l'alleanza anche fra letti e cypher almeno lì qualche scazzottata c'è prima se le danno di santa ragione però ormai è proprio una dinamica che si ripete e cioè se si sta lì a dire ma se pensiamo che l'ottavo film si basava tutto su cypher se pensiamo che the car show aveva ucciso anne quindi il settimo ragazzi è vero è verissimo è verissimo però ormai questa è la dinamica alla fast and furious quello che è successo prima praticamente risulta poi meno importante nei film successivi perché quelle persone che dovrebbero essere le cattive poi diventano buone è un difetto sì sarà un difetto ma è quello che vogliono fare non sarà un difetto boh il tutto è accetto non accetto il giochino è questo perché mettersi lì a dire tutto quello che non torna in fast and furious sarebbe come sparare sulla croce rossa è proprio un tipo di cinema che si basa sulla pura esagerazione e anzi io ammetto che debba fare i complimenti al team creativo perché comunque io anche nell'assurdo non riuscirei ad avere delle idee per portare avanti la saga fino al decimo undicesimo dodicesimo capitolo quindi sul finale beh io volevo applaudire l'inseguimento brian che riesce a saltare da una macchina all'altra jacob che si sacrifica toretto che riesce a spostare due elicotteri facendoli esplodere toretto che si fa lasciare che bello che si fa lanciare praticamente dal velivolo in retromarcia e cade giù sulla strada ma il momento più bello è quello del colpo di scena in cui scopriamo che la gente in realtà fosse d'accordo fosse d'accordo con dante reyes fin dall'inizio e vediamo il flashback se si fosse stati attenti anche all'inizio lo vedevamo di spalle ma non ce ne siamo resi conto haims no tra l'altro devo dire che sia stato molto bravo anche l'attore voglio vedere se trovo il nome così ve lo dico cioè alan richson è un attore che ha saputo stupirmi e poi c'è questo finale che già il trailer ci lasciava gustare pregustare questo finale in cui dante reyes è uforico sopra le righe folle fa scontrare contro toretto questi due tir quindi sta arrivando siamo su una diga un tir da destra un tir un tir da sinistra e lui con la sua macchina va giù in discesa verticale andando verso anche la morte apparente se si parlasse di un qualcosa di normale ma qui siamo nella normalità le fiamme con lo slow motion che prendono il sopravvento sul velivolo ma toretto è più veloce del fuoco che divampa e andrà poi a sprofondare nell'acqua però si salveranno anche se scopriamo e lì c'è il cliffhangerone finale che si unisce a letti e cypher che trovano gal gadò bella diga è cosparsa da bombe quindi quell'ultimo sguardo e il film finisce poi con letti e e cypher in antartida è quello che più vi ho appena detto cioè io ragazzi non vedo l'ora quanto devo aspettare per l'undicesimo capitolo con poi la scena durante i titoli di coda in cui dante reyes parla al telefono con ops che beh beh pensate un po è tornato e quindi è stato proprio lui ad uccidere sparandogli reyes quindi ragazzi ripeto le canzoni il momento anche della gara reyes mi ha stupito questo suo essere giocherellone folle poi grosso jason momoa potrebbe essere un perfetto michael myers ma mi ha ricordato anche un po jack sparrow mi ha ricordato un po il joker ma questo suo non prendersi sul serio questo suo essere sopra le righe mi ha mi ha colpito certo resta sempre il fatto di brian cioè paul walker anche qua si dice che non ci sia però effettivamente è strano pensare che di fronte ad una situazione del genere brian non intervenga io sono convinto che nell'undicesimo anche ricostruito digitalmente per poco lo vedremo certo è un po inquietante da pensare solo che se hanno scelto di non farlo morire già nel 9 era assurdo che non ci fosse così nell'otto qua addirittura cioè rischiano la vita tutti nel 9 poi c'era quel momento in cui durante la grigliata arrivava la macchina però scusatemi si era interrotta la registrazione vi stavo dicendo non vedo l'ora di capire cosa faranno col personaggio di brian come sarà l'undicesimo capitolo vin diesel proprio alla premiera a roma davanti al colosseo quanto avrei voluto esserci ha detto che si baserà sull'intelligenza artificiale l'undicesimo capitolo ecco spero che dante reyes non diventi buono perché è talmente cattivo lui che diventasse buono non ci crederei già è stato un colpo di scena la gente che in realtà è cattivo e quindi non non fa nessun accordo con con vin diesel quindi non entra in alleanza con la famiglia spero che dante reyes lo lasciano cattivo fra i produttori c'è anche chris morgan importante nel franchise di fast and furious la sceneggiatura di justin lean comunque di dan masù quindi che dire ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video fatemi sapere la vostra fatemi sapere se vi foste divertiti come mi sono divertito io e quindi beh fra esplosioni roma in fiamme come il napoli portogallo antartide anche il decimo capitolo di fast and furious è arrivato nelle sale e spero possa accendere i motori del box office ciao ciao